E sapete perché Gesù ci dà questo comando? Perché nel gioco della vita vince davvero non chi ha tante ricchezze. Abbiamo visto troppa gente, tanta gente ricca fare una brutta fine. Nel gioco della vita vince davvero non chi ha tante ricchezze, ma chi ha creato e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie. Insomma le relazioni valgono più dell'accumulo. Mi viene la tentazione di dire che quello che Gesù oggi ci dice non ha niente di sacro. Non vorrei scandalizzarvi. Quello che dice Gesù oggi non ha niente di sacro, ma ha tanto di saggezza e del vivere. La vita buona del Vangelo cresce laddove la sobrietà prende il posto dello spreco. E scelte solidali sostituiscono progetti orientati solo allo sfruttamento, al rifiuto e al disprezzo cinico dell'altro e dei suoi bisogni, di qualsiasi natura essi siano.